Le è venuta una faccia da scema, non se ne era accorta. L'ha vista stamattina nello specchio del parrucchiere, mentre una delle ragazze le asciugava i capelli a spazzolate e l'estetista intanto era lì ad avvolgerle al collo una salvietta per prepararla alla depilazione. Li chiamano i baffetti, loro, con innocenza brutale. E invece lei ha girato sempre attorno a quest'ombra nerastra e fastidiosa tra naso e labbro, senza avere il coraggio di nominarla. Intollerabile avere questa espressione stupida da bovino infelice, prima non ce l'aveva, è proprio nuova. In effetti, una volta in un bar dove si era trovata con un gruppo di conoscenti, un tale alticcio si era seduto al tavolo a parlare con gli altri. Quando lei, che gli stava alle spalle, aveva mormorato una qualche cosa, quello si era girato di scatto e aveva sussultato. «Uh, ragazza mia, che brutta faccia! Via, tira via quegli occhi! Son troppo intelligenti! Che impressione!» Lei si era messa a ridere, un po' storto, ma in fondo il complimento le piaceva. «Guardia mia, che buona!» Grazie a tutti.